Sono felice di essere qua nei posti dove Pasolini ha girato. Il cavallo è sicuramente fermo, è un torello poi. E' anche le mammelle piene. Ah ma è loro della pappa, c'è un altro lì. Questa è bella. Vedendo la bozza, sono fantastiche. Questa è bella. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti